Il padre allora sospirò e guardò verso il mare all'orizzonte. Non avrai altro, disse, che neri scogli le onde infuriate e il cielo vuoto sopra di te. Successe che durante la prima uscita in mare che fece con suo padre furono sorpresi da una violenta tempesta di tramontana. Shawn Michael, suo padre, i suoi fratelli, i suoi zii e i suoi cugini, quattro barche in tutto, furono presi dalla furia dei marosi e sbalzati per aria, rivoltati e di nuovo sbattuti sul mare, scosso dai cavalloni neri e infuriati e tutti intorno le schegge delle loro barche. Suo padre si incagliò nella rete e si inabissò senza un lamento. Così lontano dalla terra, in quella situazione, un pescatore più esperto avrebbe bevuto la sua razione d'acqua e l'avrebbe fatta finita. Chi si batte contro quelle onde prolunga solo la sofferenza. Ma Shawn Michael non si dava per vinto. Si dibatteva e gridava aiuto e lottava nell'acqua con le braccia e le gambe finché il mare non provò odio per lui e si rifiutò di ingoiarlo.